seppure con un formato diverso rispetto al passato anche quest'anno la nostra iniziativa tutti i dieci in pagella e cento alla maturità sta coinvolgendo e non poco i nostri lettori l'intento della rubrica è quello di dare un riconoscimento pubblico ai tanti alunni italiani che si impegnano nello studio e non solo moltissime le segnalazioni che ci sono pervenute da ogni parte d'italia e ciascuna a modo suo ci offre qualche elemento di riflessione ci sono per esempio due casi di sorelle gemelle che concludono l'anno con il massimo dei voti una coppia nella scuola primaria e una nella secondaria di primo grado non mancano situazioni davvero esemplari come quella di una ragazza di un liceo di ancona che per la prima volta nella storia della sua scuola colleziona tutti dieci alla fine della terza per non parlare poi dei numerosi ragazzi che riportano il dieci con lode all'esame di stato conclusivo del primo ciclo dopo aver ottenuto il massimo dei voti anche nei due anni precedenti ma quest'anno le storie si intrecciano anche con le vicende legate alla emergenza e alla piacevole interessante leggere i racconti di docenti e genitori che parlano di ragazze e ragazzi bravissimi in matematica inglese e scienze che però in questi mesi difficili si sono impegnati molto anche per aiutare i loro compagni che non riuscivano a collegarsi ma chi sono questi studenti che arrivano a questi risultati stando ai racconti che ci arrivano sono ragazze e ragazzi che amano lo studio ma che non trascurano affatto altre attività tipiche della loro età dal gioco allo sport anche a livello agonistico anche per l'esame di stato del secondo ciclo c'è la cosiddetta maturità ci sono arrivate molte segnalazioni e altre ce ne arriveranno dal momento che gli esami non sono ancora conclusi dappertutto ovviamente ci fa piacere offrire ai nostri lettori uno spaccato positivo di ciò che accade nelle nostre scuole e ci auguriamo che tutti i protagonisti dei dieci o dei cento che noi raccontiamo siano consapevoli che comunque non si studia per la scuola ma per la vita e ancor di più per diventare cittadini responsabili e consapevoli il 2020 sarà comunque un anno storico che tutti gli studenti italiani ricorderanno in qualche modo e sono proprio tutti ad aver superato la difficile prova della solitudine per tre mesi un cento con lode andrebbe secondo noi riconosciuto a tutti almeno in questa speciale materia di questo tema noi continueremo ad occuparci perché la nostra iniziativa tutti i dieci in pagella e cento alla maturità prosegue anche nei prossimi giorni quindi scriveteci inviateci le vostre segnalazioni i vostri racconti e noi ne daremo conto seguiteci anche per tutte le altre notizie di attualità e di politica scolastica sul sito www.tecnicadellascuola.it